Ciao a tutti e benvenuti! Oggi sono qui per dirvi che mi troverete sul secondo canale, infatti vi terrò proprio compagnia sul secondo canale con delle tematiche nuove ma soprattutto interessanti e non vi terrò compagnia soltanto oggi ma anche domani. Nel video di oggi per esempio voglio parlarvi di quello che sta accadendo nel mondo. Nel mondo si stanno verificando dei fenomeni da una parte bizzarri dall'altra inquietanti. Nel video di oggi per esempio vi mostrerò dei filmati che fanno davvero accapponare la pelle, di queste luci nel cielo come se fossero tipo delle luci ad intermittenza, alcuni le vanno ad associare agli alieni, all'arrivo degli alieni, altri invece parlano di prove militari di qualche tipo, insomma le teorie sono davvero tante e oggi appunto ve ne parlerò. Molto spesso le persone ha queste strane luci che tra l'altro non hanno, è come se non si riuscisse a capire da cosa o meglio da dove provengono perché magari in basso sappiamo benissimo che per esempio quando ci sono delle feste o dei parti in cui vengono utilizzate delle luci molto forti, queste quando il tempo è nuvoloso possono riflettere sulle nuvole no? Andando appunto a causare questo effetto di intermittenza. Nei video che vi mostrerò oggi si può proprio vedere che sotto non c'è nulla che provoca questo effetto e quindi alcuni si chiedono ma da dove provengono queste luci? Che cosa è nascosto lì tra le nuvole? Che cosa, a che cosa vogliono prepararci? E quindi vi parlerò un po' di quello che si sta verificando e di quello che potrebbe verificarsi appunto insomma tra qualche settimana, tra qualche mese da quello che dicono. E la cosa che è inquietante ragazzi è che io stessa, io mentre tornavo a casa con la mia famiglia, ho proprio visto queste luci nel cielo però mi trovavo in auto ragazzi e non ho fatto in tempo a registrare ma la prossima volta sempre se io dovessi vederle nuovamente riprenderò il tutto. E' un fenomeno davvero molto strano, vi mostrerò addirittura un video in cui tra i fulmini si possono vedere degli oggetti che sembrano a tutti gli effetti dei velivoli alieni. E quindi non mancate ovviamente, se non siete iscritti al mio secondo canale troverete il link giù nella info e nel primo commento sotto il video. Se vi piacciono i miei video diffondeteli, aiutatemi e sostenetemi. Mentre domani voglio parlarvi dei fantasmi quindi qui mi rivolgo a tutti gli appassionati del paranormale. Vi siete mai chiesti come mai i fantasmi vengono sempre simboleggiati con queste lenzuola bianche? Beh domani parleremo proprio di questo, voglio raccontarvi la storia che c'è proprio dietro il simbolismo del fantasma visto come una presenza appunto vestita di bianco, ne parleremo domani. Quindi che dirvi? Vi aspetto, non mancate, sto preparando video sempre più interessanti per voi, per tenervi compagnia e per passare qualche minuto insieme a me. Quindi per passare, meglio per trascorrere qualche minuto insieme a me. Vi do appuntamento appunto sul secondo canale tra qualche ora e anche domani. Vi ho detto già il link giù nella info nel primo commento, venitemi a trovare, mi farebbe davvero tanto piacere. Per il momento vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo più tardi.